La voce dell'Agenzia, rubrica di informazione fiscale a cura dell'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna. Ascoltatori della web radio dell'Agenzia delle Entrate, un cordiale saluto da parte di Biagio Cunzolo e Gianfranco Mingione, nuovamente insieme con il collega Giuseppe Casino dell'Ufficio Gestione Tributi della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, sempre per parlare di 7 e 30 2018. Ciao Giuseppe. Ciao. Ecco, nella prima puntata dedicata al 7 e 30 2018 abbiamo introdotto il tema della dichiarazione precompilata. Giuseppe, adesso approfondiamo alcuni aspetti sull'accesso diretto tramite il sito internet. Per esempio, cosa accade una volta che si è entrati nell'area riservata? Una volta effettuato l'accesso, il contribuente trova un menu di stradamento che lo indirizzerà verso il modello 7 e 30 oppure verso il modello redditi. Qui ci concentriamo sul modello 7 e 30 che interessa la maggior parte dei contribuenti. La prima cosa da fare è verificare la correttezza dei dati indicati. Se non c'è bisogno di alcuna correzione o integrazione, si può accettare il 7 e 30 senza modifiche e inviarlo. In questo caso l'agenzia delle entrate non farà il controllo documentale delle spese indicate in dichiarazione. Se invece alcuni dati non risultano corretti, il contribuente può, sempre online nella propria area autenticata, modificare o integrare i dati presenti nella dichiarazione. Ecco, quali saranno le novità di questo quarto anno di dichiarazione precompilata? In particolare, il contribuente cosa troverà nell'area riservata? Il contribuente troverà nell'area riservata la dichiarazione precompilata con tutti i dati in possesso dell'agenzia delle entrate e un prospetto di sintesi dei dati considerati per preparare la dichiarazione e quelli non utilizzati. E inoltre è possibile consultare il dettaglio delle spese sanitarie sostenute per se stessi e per i familiari a carico. Inoltre è disponibile anche quello che tecnicamente viene detto l'esito della liquidazione, vale a dire il calcolo per cui il contribuente sulla base della dichiarazione presentata ha diritto a un rimborso oppure deve pagare se avversato meno imposte rispetto a quanto doveva. Cos'è cambiato Giuseppe nel nuovo 730 precompilato rispetto allo scorso anno? Da quest'anno c'è una nuova funzionalità di compilazione cosiddetta assistita del quadro E, quello relativo agli oneri detraibili e deducibili che è a disposizione dei contribuenti che intendono modificare il proprio 730 precompilato. In questo modo sarà più semplice e immediato modificare, integrare o cancellare i dati, nonché inserire nuovi documenti di spesa. Altra novità è rappresentata dalla possibilità di sapere come lo Stato ha utilizzato le imposte relative al 2016. Infatti, accedendo alla propria precompilata, i cittadini possono consultare il dettaglio relativo alla ripartizione dei tributi tra le diverse voci di spesa pubblica, sanità, previdenza, istruzione, sicurezza, ordine pubblico, trasporti, cultura, protezione del territorio. Si tratta di un'iniziativa dell'Agenzia volta a rafforzare il senso di partecipazione dei cittadini, che in questo modo potranno conoscere la destinazione del loro contributo economico all'amministrazione e gestione dello Stato. Ecco, nello specifico, quali sono i dati già presenti nella precompilata? Ecco Giuseppe, puoi farci qualche esempio, fare qualche esempio appunto riferito agli ascoltatori interessati all'utilizzo del 730 precompilato? I dati fondamentali che il contribuente troverà nella dichiarazione precompilata sono quelli riportati nella certificazione unica, che da quest'anno contiene anche la sezione riservata al nuovo regime fiscale delle locazioni brevi. Per quanto riguarda gli oneri deducibili e detraibili, giusto per fare qualche esempio, sono inserite in dichiarazione le spese sanitarie, comprese quelle sostenute per supporto psicologico, per le prestazioni rese da ottici, infermieri, ostetriche e radiologi, sono inseriti gli interessi passivi sui mutui, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali e quelli versati per colf e badanti, e poi ancora le spese universitarie proprie e per familiari a carico e le spese funebri, detraibili dall'anno scorso anche se non c'è un vincolo di parentela con il defunto. Poi ancora le spese veterinarie e le spese per le ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico sostenute dai condomini. Ci sono novità dunque riguardo ai dati inseriti nella precompilata? Da quest'anno sono stati inclusi nella precompilata anche le spese sostenute dai genitori per pagare le rette degli asili nido e se comunicate le erogazioni liberali agli enti del terzo settore. In ogni caso, se il contribuente verifica che alcune spese non sono state inserite nella precompilata, può inserirle autonomamente all'interno dell'area riservata, utilizzando, se lo desidera, la nuova modalità di compilazione assistita. La precompilata 2018, inoltre, tiene conto delle novità arrivate nel corso del 2017 in tema di affitti brevi. Il reddito derivante dalle locazioni brevi, comunicato tramite la certificazione uminica dagli intermediari immobiliari o da coloro che gestiscono un portale telematico, è indicato nel quadro B come reddito fondiario se il soggetto che percepisce il canone è il proprietario dell'immobile o il titolare di altro diritto reale. Nel quadro D, come reddito diverso, se il soggetto che percepisce il corrispettivo è il sublocatore o il comodatario. La ritenuta effettuata dagli intermediari immobiliari è invece indicata nel rigo F8. Ecco Giuseppe, parliamo di locazioni brevi. È un argomento questo molto gettonato. Dal 1 giugno 2017 è entrato in vigore un nuovo regime fiscale. Spiegaci bene di che cosa si tratta. Dal 1 giugno 2017 è in vigore un nuovo regime fiscale per le locazioni brevi, per intenderci quelle locazioni di durata inferiore ai 30 giorni per i quali non c'è l'obbligo della registrazione. Quando la locazione breve è stipulata tramite un intermediario immobiliare che interviene anche nella fase di riscossione del canone è assoggettata a una ritenuta del 21%. I redditi d'allocazione breve possono essere assoggettati a tassazione ordinaria o a regime dell'acedolare secca. Poiché solitamente l'acedolare secca è più vantaggiosa per il contribuente, nella dichiarazione precompilata i corrispettivi comunicati sono automaticamente assoggettati a tassazione sostitutiva. Il contribuente, se lo ritiene più conveniente, può modificare la dichiarazione precompilata optando per la tassazione ordinaria. Ebbene era questa l'ultima domanda posta Giuseppe. Ringraziamo Giuseppe per la disponibilità. Grazie. Prego, arrivederci a tutti. E ribadiamo ai nostri amici ascoltatori che tutte le informazioni sulla dichiarazione precompilata sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Altro appuntamento lo dedicheremo nella prossima puntata, sempre dedicato appunto al 7.30 precompilato 2018. Infine vi informo che le puntate della web radio dell'Agenzia delle Entrate, comprese anche le puntate dedicate al radiogiornale dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, possono essere tranquillamente scaricate e condivise su Facebook, Twitter e Google. Ebbene è veramente tutto. Grazie per la vostra cortese attenzione, un cordiale saluto da parte di Biagio Cunzolo e dai colleghi oggi in studio Giuseppe Casino e Gianfranco Mingione. Grazie ancora e a risentirci.